alfredo bini presenta un film di pier paolo pasolini il vangelo secondo matteo il film più premiato alla venticinquesima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia pier paolo pasolini seguendo fedelmente il testo di matteo ha creato un susseguirsi di quadri vivi e commoventi costituendo con le sue centinaia di personaggi un'autentica galleria di ritratti di sorprendente e affascinante realtà maria giovane giuseppe suo sposo l'angelo del signore il demonio erode caifa pilato salome e pietro andrea matteo giacomo giovanni giuda e tutti gli apostoli maria vecchia e giovanni battista grazie a tutti sono io io ho bisogno di essere battezzato da te vieni da me questo è il figlio mio il diletto nel quale ho posto le mie compiacenze ci sono i primi infatti di sottotitoli ci sono le mie presenti e è la ma non ma non ma 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 Sta scritto La mia casa sarà casa di orazione Ma voi ne fate una spelonca di ladri La stampa di tutto il mondo Ha parlato della traccia indelebile Che questo film lascerà nella storia del cinema Si è scritto che Le sequenze del Vangelo secondo Matteo Di questo Vangelo musicale e visuale Sono veramente sconvolgenti fin dall'inizio E altri hanno aggiunto Il film di Pasolini è un'opera appassionante Che fa onore al cinema Il Vangelo secondo Matteo Diretto da Pier Paolo Pasolini Un film dedicato alla memoria di Giovanni XXIII Un film pervaso di sentimento e di realtà Profondamente evangelici Il Vangelo secondo Matteo Può definirsi senza esitazione La più bella rappresentazione cinematografica Del dramma cui è legata a tutta la storia dell'umanità Il film di Pasolini è un'opera appassionante Il film di Pasolini è un'opera appassionante Il popolo di carta è il film di Pasolini è un'opera appassionante Il film di Pasolini è un'opera appassionante